Riportare il limite di velocità lungo la strada provinciale che collega Domo a Villa Dossola a 70 km orari anziché gli attuali 50 e quanto chiedono con un'interrogazione al sindaco Bruno Toscani i consiglieri del gruppo di minoranza a Villa Dossola. Uniti per Villa Fatto Suo e le rimostranze avanzate da alcuni automobilisti abbiamo, dicono, raccolto le sollecitazioni arrivate da chi percorre giornalmente quel tratto di strada. Persone che hanno manifestato perplessità rispetto al limite imposto dall'amministrazione provinciale. In effetti la strada in questione è l'ex statale passata gli anni scorsi provinciali con la costruzione della superstrada del Sempione. Mauro Ferrari, Francesco Squizzi, Elena Bonalumi ed Ivana Bandini lamentano disparità di trattamento rispetto ad altri tratti di strade provinciali del territorio e per questo chiedono al primo cittadino di Villa Dossola se nelle sedi opportuni sia stato evidenziato tutto questo. Ci riferiamo, dicono, uniti per Villa, a strade che presentano analogie strutturali come il tratto Vogonia-Premosello, Premosello-Cuzzago, dove il limite di velocità è di 70 km orari. Maliziosamente, dicono ancora i consiglieri, qualche automobilista ha ipotizzato l'idea che si intenderebbe favorire il possibile aumento delle contravvenzioni di conseguenza alle entrate. L'argomento, dunque, chiama in causa l'amministrazione provinciale che, per bocca del consigliere delegato alla viabilità precisa, il nuovo limite è entrato in vigore perché, concertato con le amministrazioni, nessuna imposizione, mai alcuna modifica viene fatta in maniera unilaterale e senza un preventivo confronto. Siamo comunque pronti a discutere la questione. Le parole di Rino Porini.